Malattie rare ai tempi del Covid. Si è parlato di questo nell'ultima puntata del 2020 di Pronto Medicina Facile, la trasmissione curata e condotta da Paolo Castignani con la collaborazione di Gigliola Edmondo. Ospiti degli studi televisivi di Reteotto sono state le dottoresse Domenica Taruscio, direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, la Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie Rare d'Italia, e Silvia Di Michele, responsabile della Task Force regionale per l'emergenza coronavirus. Lo sportello malattie rare è nato molti anni fa come risposta ai bisogni dei malattie rari della nostra ASL e quindi diciamo si occupa dell'orientamento, della cura, della validazione dei piani terapeutici, interviene un pochino in tutta la rete delle malattie rare. Dal 2018 è anche centro di coordinamento regionale. Le malattie rare si definiscono tali quando colpiscono non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti. Sono dalle 7.000 alle 8.000 quelle censite, ma ce ne sono anche tante che non hanno ancora un nome, che non hanno ancora un percorso diagnostico e terapeutico. In Italia i malattie rari sono ben un milione di persone. Né in Europa si stima che possono arrivare anche fino a 32 milioni, negli Stati Uniti sono 20 milioni di malati. Si pensa che nel mondo i malati rari siano da 250 milioni a 300 milioni. Quindi le malattie rare sono rare, ma i malati rari sono tantissimi. In Abruzzo i censiti sono 1.592, ma io temo che siano molti di più. Durante questi duri mesi di pandemia quali sono stati gli obiettivi dell'assistenza a queste persone fragili e vulnerabili? Durante una pandemia come questa noi dobbiamo essere certi dello stato clinico del malato raro. Bisogna pianificare e programmare la terapia domiciliare laddove i centri di riferimento possano essere chiusi. Bisogna stare attenti a possibili aggravamenti della malattia. È importante il sostegno psicologico. La Regione Abruzzo ha provveduto a fare un'ordinanza specifica per i malati rari che ha previsto questa serie di tutela, la proroga dei piani terapeutici, ma anche cercare di far sì che tutto potesse essere facilitato e soprattutto potesse essere anche laddove possibile consegnato a domicilio attraverso le associazioni di volontariato. La Regione Abruzzo